Bentornati a Medicina 5MHz. Sono la dannazione di ogni genitore, eppure non sono così nocivi come immaginiamo. Di cosa sto parlando? Dei videogiochi. Siamo abituati a pensare ai videogiochi e a sottolinearne sempre gli aspetti negativi, come la sedentarietà, il possibile isolamento sociale, la creazione di una dipendenza. Questi aspetti permangono, ma ormai i videogiochi e la realtà virtuale sono entrati anche nel percorso riabilitativo di adulti e bambini. La gamification è l'introduzione di elementi del gioco in contesti non ludici, dunque per esempio l'attribuzione di punti o medaglie, la creazione di un avatar per potersi rappresentare all'interno di un contesto, oppure la creazione di gare sfruttando i social network. Ed è proprio l'uso della gamification nei percorsi riabilitativi che può essere di aiuto in alcune malattie. Infatti la riabilitazione di per sé a volte può essere frustrante, in questo modo si riesce ad essere più efficaci e motivanti. I bambini affetti da ADHD, che è una patologia caratterizzata una iperattività, tendono ad essere poco aderenti alla terapia tradizionale. Si cerca allora in questo momento di studiare dei videogiochi, detti serious games, che introducono a una maggiore efficienza, una maggior concentrazione e collaborazione. Infatti i soggetti affetti da ADHD, nonostante il deficit di attenzione, sono capaci di focalizzarsi a lungo su attività interessano. Questo è un fenomeno detto iperfocus ed allora i bambini possono sfruttare il videogioco per imparare delle tecniche di contenimento. L'allenamento con un videogioco ha dimostrato in tutte le fasce di età di riuscire a migliorare l'acutezza visiva, la percezione cromatica, la capacità di cogliere i particolari in un campo visivo, la memoria, la velocità decisionale e anche l'abilità visivo-manuali, che sono molto utili in alcune professioni, quali i piloti o i chirurghi che si approcciano al mondo della robotica. I videogiochi e la realtà virtuale sono inoltre utilizzati in soggetti con disabilità motoria, molto probabilmente risultano efficaci perché attivano i neuroni specchio. Ed ecco utilizzare i videogiochi in persone che a seguito di un ictus hanno una disabilità nel movimento di un emilato del corpo, oppure in pazienti che devono apprendere l'utilizzo delle protesi dopo un'amputazione, oppure in soggetti con Alzheimer e Parkinson che devono essere educati giornalmente alle attività della ruvida quotidiana. È il caso di dire che il gioco è la migliore a medicina, iscrivetevi a Medicina 5MHz, che non è un gioco ma comunque è capace di farvi divertire. Ciao!